Ben ritrovati amici e amiche all'appuntamento col meteo per questa domenica 3 dicembre. Il vortice di bassa pressione formatosi nel mare terreno a seguito dell'ingresso di aria fredda, molto fredda, di origine artica, sta provocando un netto guasto dal tempo al centro sud e soprattutto il forte caldo della quota neve anche sulle regioni centrali. Quindi nel corso di questa domenica ci aspettiamo maltempo diffuso su buona parte dell'Abruzzo con piogge, qualche locale temporale e soprattutto nevicate localmente anche intense sull'Appennino sin verso i 400-500 metri di quota, quindi sin a quote collinari. La neve pertanto nel corso della giornata potrebbe raggiungere anche settori come l'Aquila. con un accumulo anche abbastanza modesto. Piogge più in basso con qualche fiocco di neve tra la pioggia, sino a bassa quota tra Terramano e Pescarese. Insisterà il vento soprattutto sulle coste e dei quadranti nord-orientali. Clima abbastanza freddo, molto freddo in Appennino. Con questo è tutto, grazie per essere stati qui. Noi vi auguriamo una buona e serena giornata. Arrivederci al prossimo appuntamento col meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.